buongiorno sono in macchina ho fatto le corse stamattina adesso sto uscendo a fare colazione cosa che non faccio praticamente mai perché non riesco a stare senza aver mangiato ma oggi ho fatto tutto di fretta yoga doccia quindi ce la posso fare a resistere e niente questo vlog è un vlog di letture ovvero la sfida di sette libri in sette giorni ma di questo ne parliamo dopo quando torno più tardi in mattinata vi presento quelli che sono i libricini scelti per la sfida perché non sono pazza conosco i miei limiti e soprattutto non ho intenzione di fare pazzie sotto Natale dunque librettini piccoli allora abbiamo total overshot edito mosca bianca di axa lidia vallotto con illustrazioni di zeno colangelo è una novella praticamente come potete vedere ci sono anche delle bellissime illustrazioni quindi anche scritto grosso insomma è grande quanto la mia mano niente di che perciò questo da leggere assolutamente abbiamo poi un piccolo saggetto di edizione o che ho in libreria da un po ormai sempre del loro formato tascabile sempre dimensione mano di george piccolino anche questo e dato che da un po che non leggo qualcosa di elena ferrante e ho dei saggi da smaltire e o direi che questo fa il caso nostro e procediamo con elena la bellezza che genera la guerra della colonna dei grandi miti greci e da un po che non le leggo uno anche questi sono sicuramente piccolini di conseguenza un'ottima idea per i saggi ho in mente di alternarli rispetto alle letture invece di narrativa così arrivo a fine della settimana che ho letto quel che dovevo leggere insomma poi abbiamo nel freddo e nella notte di silvia torani gliel'ho acquistato oppure ho messo il segnalibro a tema già prontissimo durante cartumix non è un libro grande ed è una lettura assolutamente invernale che voglio fare in questi giorni quindi eccoci qua poi dei libricini di gribaudo che vorrei leggere dato che sono dei libri per ragazzi e sono anche molto agili come vedete molto molto piccolini quindi questo è uno poi dopo ce n'è un altro questo è quello che vorrei fare proprio come lettura invernale a prescindere da questa sfida me lo sono tenuto apposta non l'ho iniziato prima è sicuramente più grosso non so quante pagine siano ma più di 300 quindi vediamo questo comunque voglio iniziarlo a prescindere dalla sfida raccolta di poesie del mio amico francesco battaglia che me l'ha data in occasione di strani mondi questa è perfetta da leggere mentre faccio la sfida generica quindi leggerò i vari libri e durante le varie giornate mi leggerò le poesie diciamo che l'obiettivo sono sette libri ma visto che ci sono delle cose piccoline tipo questo e anche questo posso anche leggerne più di uno di libro ecco e questo qui è il ragazzo che coltivava i draghi di Andy Shepard è sempre gribaudo fantasy ma con un target come vedete più kids e dato che è corto e ce l'ho lì da leggere dato che soprattutto non ho ancora letto nulla dei nuovi gribaudo fantasy mi sembra l'occasione perfetta se riesco magari ho anche il secondo già pronto e questa è la lettura che invece vorrei fare proprio oggi stesso ovvero selvaggia di rosalia radosti che mi ha anche fatto uno schiacciettino in occasione del lucca comics edito rebelle edizioni con delle illustrazioni che io trovo stupende quindi oggi leggerò questo cosa c'è dentro? il suo regalo non è adesso Kylo è infame sa già che c'è qualcosa per lui a Kylo dal suo compleanno ha questo gufetto natalizio che gli piace un sacco ti piace un sacco? non vincerai o forse sì ne approfitto per mostrarvi proprio un arrivo dell'ultimo minuto ovvero il manuale di magia bianca scritto per chi l'ha dimenticato Strix di Elsin Mashara con le illustrazioni bellissime di Black Banshee che ha fatto anche delle cose per rebel edizioni nel caso non aveste colto il tratto e appunto si tratta di un manuale relativo alla magia bianca bellissimo mi affascina tantissimo guardate che illustrazioni meravigliose mi è stato inviato dalle ragazze che hanno che curano la mostra stregherie a Monza ero stata invitata anche all'apertura della stessa ma purtroppo ero a Lucca e non ci sono potuta andare per fortuna è fino a febbraio di conseguenza ci andrò sicuramente con l'anno nuovo non vedo l'ora qui tra l'altro ci sono i prezzi potete seguirli su Instagram eccetera quindi grazie mille ah c'è anche una spilletta che sono praticamente i talismani c'è qua la leggenda i talismani della strega Fridora io ho questo qua che è Dominantur Parentes che protegge dalle arrabbiature dei genitori beh sotto le feste ci sta sei bello mentre ero sul divano con lui ho letto Selvaggia di Rosalia Radosti che dire è stata una bella lettura ha il sapore fiabesco che lascia presagire anche la copertina e in generale proprio le illustrazioni che mi sono piaciute da impazzire davvero delicate con colori tenui pastellosi molto belle al contempo però non segue gli stessi tracciati delle fiabe classiche per un momento ho temuto che andasse in una direzione un po' prevedibile o comunque già vista sul finale mentre invece mi ha sorpreso molto è una storia abbastanza triste quindi altro punto a favore per quel che mi riguarda sicuramente per una storia del genere avrei avuto un po' più di approfondimento nella parte centrale su Selvaggia e sul rapporto con Odio Rodrigo si chiama quindi a parte quello devo dire che la scrittura della storia per quanto semplice mi ha convinto i disegni sono bellissimi quindi per me è stato un super sì voglio vedere altre opere con questi disegni meravigliosi davvero davvero belli perchè piangi? i leprotti? si parla bene i leprotti io andrò a schierare le forze a oriente dichiarò il titano dorato rio tu resterai di guardia al monte otri il tizio con le corna del riete sbuffò mi toccano sempre i lavori stupidi signore del sud signore delle costellazioni ora mi tocca fare la babysitter di Atalante mentre tu ti prendi tutto il divertimento intanto me l'avrete visto anche tra le mani nella prima clip della giornata sto leggendo Zofri di Giulia Bifrost eccolo qua sono al capitolo 7 ricordavo bene e vi aggiornerò anche su questo che su cui ho lasciato le ditate è l'una di notte ho appena finito di sistemare il nono capitolo del romanzo e l'ho caricato sul Dropbox per l'ending ma prima di dormire mi leggo la prima poesia scusa? buongiorno oggi è il 24 di dicembre me and the alberello amicissimi dunque questa giornata è già piena di cose devo uscire di casa adesso perché sono già quasi le 11 devo fare le ultime commissioni natalizie con questa faccia che ha assolutamente voglia di farlo adesso vado a scegliere uno dei libri della challenge di questi sette libri in sette giorni ma prima vi aggiorno un attimino su come stanno andando le letture oggi c'è proprio fuori quella luce che ti fa venire voglia di cavarti gli occhi da tanto è fastidiosa anyway tra ieri sera e stamattina ho continuato anche un pochino zombie friendly sono al capitolo 9 quindi pagina 129 nel complesso il libro mi sta interessando infatti sto andando avanti con piacere la trama è sicuramente al cardiopalma insomma con ambientazione post apocalittica questi che stanno battendo hanno rotto il cazzo ci sono due cose che invece non mi convincono al 100% la prima è la distribuzione delle virgole in alcuni periodi che li rende un po' legnosi e quindi faccio fatica a connettermi con il ritmo delle frasi l'altra cosa è che secondo me ci sono tantissimi punti di introspezione in punti in cui a mio avviso si dovrebbe anche spezzare un po' con qualche azione del mondo con il mondo circostante qualche appunto anche percezione sensoriale quindi arrivano questi wall of text di considerazioni del protagonista che sono anche molto divertenti con un numerismo particolare però sono alcuni troppo lunghi quindi queste due cose sono le uniche che per ora non mi stanno convincendo per il resto invece prosegue bene la lettura poi ieri sera ho appunto iniziato l'icantropia e sono arrivata addirittura alla dodicesima poesia mi stanno piacendo molto poi sono corte, sono tipo le caramelle per me nel mio caso più i cioccolatini te ne infili una in bocca e poi ti viene voglia di mangiare tutte le altre trovo che la visione tematica appunto dell'icantropo per questa raccolta sia molto affascinante più che altro l'ho rivista in maniera contemporanea e molto poetica grazie Arca e invece oggi che cosa facciamo? allora c'è il primo questo qua il ragazzo che coltivava i draghi che vorrei leggere ho tirato fuori anche il secondo perché se mi gira bene li leggo entrambi oggi dato che sono piccolini così almeno concludo questa duologia non so se sono solo questi due io direi che salto in libreria doveroso che carino sono le 5 io sono tornata a casa circa un'oretta fa non ho letto assolutamente niente non ne ho avuto il tempo tutte ste commissioni mi hanno ammazzata adesso però metto a leggere questo sono le 5 e mezza io sono praticamente arrivata a metà libro e mi sa che lo concluderò mentre faccio merenda pagina 120 così ritrovo il segno questa è la mia bellissima nuova copertina natalizia l'adoro ed è super caldo intanto ho trovato il segnalibro perfetto per questa lettura quindi adesso è tempo di inserirlo poi mentre ero in macchina ho continuato anche con l'audiolibro di Percy Jackson l'ultimo libro che cos'è? l'ultimo scontro? non rammento il titolo dovrebbe essere lo scontro finale ecco e sono arrivata al sesto capitolo quindi adesso aggiorno anche sul cartaceo ok devo iniziare questo capitolo non so perché però guardate che carino il segno libro su odiol mi segna che si tratta del settimo capitolo vabbè comunque fra che cosa abbiamo fatto? cosa abbiamo fatto? cosa abbiamo fatto all'alba del 24 dicembre? comprato gli ultimi regali cosa fa il cane? si è lanciato te sul cappotto sempre lo fai a queste cose qua uno appoggia una roba per terra tu ti ci siedi sopra ciao libricino appena finito mentre sorseggiavo il tè super super carino e consigliato ovviamente è per un target più piccolo ma sono davvero tentata di iniziare proprio oggi stesso questo libro se non fosse che sono le 7 devo registrare un video cioè la cena della vigilia con la mia famiglia il film da guardare e vorrei anche correggere dei capitoli del romanzo quindi uff cena della vigilia fatta ma io non ho fatto il video che registrerò a questo punto domattina prima di andare a pranzo dei nonni quindi mi sveglierò relativamente presto per fare tutto ma tanto i libri li ho già scelti adesso li impilo da qualche parte prima di andare a dormire farò un nuovo round con le cantropie mentre invece il primo libro mi ha lasciato proprio una sensazione piacevole adesso prima di guardarci un film in famiglia mi metto a leggio chiare proprio questo qui perché è troppo carino è Natale per tutti buon Natale allora prima di uscire di casa e di andare a pranzo dei nonni mi sono fatta una bella maschera ho messo l'olaplex in testa così poi mi lavo faccio tutto quello che devo fare e intanto sto proseguendo la lettura di il ragazzo che addestrava i draghi e sono quasi alla metà vorrei finirlo in realtà prima di uscire di casa non so se riuscirò o comunque me lo porto in giro perché è super leggero carino sono tra i libri se non ho capito male non so se Gribaud ha già pubblicato il terzo devo fare un check perché lo voglio assolutamente leggere e intanto non hanno resistito ecco sono lì e ho aperto un paio di regali dei miei amici questo bellissimo lego di Star Wars e una sciarpa che è morbidissima infatti mi sa che me la metto già dopo uscire di casa adoro sono quasi le 6 siamo appena tornati dalla prima parte di giornata natalizia a casa dei nonni adesso ho un attimo di pausa e poi andiamo invece dal mio cugino intanto vi dico che ho iniziato a leggere un capitolo e mezzo proprio perché non c'è stato il tempo di rosso bianco e sangue blu ho voglia di qualcosa di leggero sono un po' di vestiti facciamo che mi metto di qua che dire rispetto agli anni passati lo scorso e quest'anno sono stati un po' movimentati per via del passaggio da una casa all'altra di conseguenza non sono molto contenta perché preferirei starmene tranquilla in un solo posto anche a leggere cosa che ho sempre fatto e negli ultimi due anni invece quindi questa cosa non mi rende molto felice però ho quasi finito anche il ragazzo che addestrava i draghi mal che vada lo finisco stasera intanto io continuo a portarmi dietro questo anche dopo ci sono ancora i libri dal video di stamattina questi sono i regali di mia sorella delle bellissime calzine natalizie che adoro e lo shampoo di Olaplex io ho il trattamento quello ricostituente che andrebbe utilizzato appunto con lo shampoo quindi adesso ho tutto mentre invece l'unico libro che ho ricevuto è questo Unity di Ellie Banks con la traduzione di Martina del Romano che è la traduttrice di tutti i libri di Ellie Sosman praticamente che mi è arrivato da Fagiolo che ringrazio tantissimo ed è l'unico libro che mi è arrivato e va bene così considerando quanto alcune persone abbiano difficoltà a vivere questi momenti di convivenza forzata con familiari o persone che hanno arrecato dei danni in passato io mi ritengo fortunatissima perché adoro stare con la mia famiglia è un privilegio enorme però devo dirvi che sono veramente stanca perché dall'anno scorso questa modalità di spostamento non mi permette di rilassarmi quindi è l'una siamo tornati da poco a casa sono già in pigiamata sono pronta per andare a dormire e crollare domani per fortuna ho tutto il tempo del mondo per rilassarmi per davvero non come avete visto negli scorsi giorni che ho fatto 3000 cose però 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 ho concluso una lettura quindi non ero nel programma iniziale ma ho concluso anche il ragazzo che addestrava i draghi e possiamo togliere il segnalibro e ho iniziato rosso bianco e sangue blu ora ho letto pochissimo proprio una trentina di pagine o quarantina di pagine perché non ho avuto letteralmente il tempo di riposarmi e questa cosa non mi è piaciuta però questa è proprio la lettura perfetta per l'inverno quindi me la continuerò nei prossimi giorni mentre devo decidere che cavolo leggere allora questo me lo porto sicuro per la prossima settimana per il viaggio in treno questo non so se me lo porto slash me lo leggo nei prossimi giorni a casa vorrei iniziare cioè questo me lo porto mentre sono a Napoli e penso anche questo quindi diciamo che questi tre verranno con me questo vorrei concluderlo prima e c'è lui che voglio leggere mi sa che questo lo inizio domani perché vorrei accostare appunto la saggistica che non ho ancora iniziato quindi se riuscissi a leggere questo mentre porto avanti rosso bianco e sangue blu le poesie che adesso infatti mi leggo un pochino e zombie friendly direi che siamo a posto qua lasciamo stare tutta la pila delle cose che non sto leggendo sono stata blessata da altri regali meravigliosi refill di mascara che serve sempre mi sta finendo e questo bagno doccia meraviglioso ma soprattutto mio cugino e il suo compagno mi hanno regalato questo gioco meraviglioso sono troppo contenta lo volevo da un sacco di tempo e c'è una storia divertente ovvero che sul black friday io volevo acquistarlo perché era scontato quindi ho detto beh lo compro ma poi ho visto quando l'ho messo nel carrello che mi diceva guarda che qualcuno della tua wishlist l'ha messo cioè l'ha comprato e ero tipo oh no è qualcuno che magari ha guardato la mia wishlist perché quella è pubblica possono vederla un po' tutti e ha voluto acquistarlo oppure qualcuno che mi ha fatto il regalo ho atteso un pochino e il videogioco poi è finito tant'è che io mi sono presa la remastered di god of war 3 perché volevo giocarlo con mia sorella e volevo un videogioco nuovo e quindi mi stavo dicendo vabbè me lo comprerò prima o poi aspetto che scenda di nuovo di prezzo che torni in stock perché su amazon non c'era e invece oggi è mio quindi sono troppo contenta devo finire un po' di giochi in realtà prima di iniziare questo tra cui ad esempio jedi the fallen order spyro the reunited trilogy che devo finire l'ultimo giocare a god of war con mia sorella quindi tante cose ma sono super contenta scusa cosa sei venuto a fare qua? buongiorno da me e dal sobrissimo kigurumi di charmander che tipo la mia vita non la mettevo però da un annetto buono anche stamattina sono andata un po' avanti a leggere rosso bianco e sangue blu sono arrivata a pagina 82 si fa sempre più interessante più dolce esattamente ciò di cui ho bisogno un romance a natale secondo me è quello che tutti dovrebbero leggere e quindi niente sono quasi speranzosa di riuscirlo a concludere prima della partenza non così tanto speranzosa peccato che ho messo da parte un pochino zombie friendly ma non posso finire di leggere questo oggi perché non ce la farò mai visto che voglio fare anche 3000 altre cose di conseguenza inizio anche a leggere i margini e il dettato tra poco anche se prima monto il lego di star wars ultime luci del giorno e si porta fuori Kylo con la sua pallina preferita che suona si stanno iniziando ad allungare un po' le giornate ma non puoi tirare ma comunque sono ancora troppo brevi questo dicembre fa caldissimo comunque sto girando con un solo cappotto di solito ne metto uno sotto un po' più termico per le passeggiate col cane senza cappello senza guanti e sto bene boh in casa non abbiamo neanche il riscaldamento particolarmente acceso quindi tutto ciò è molto brutto e inquietante e comunque outfit da paura per la lettura cioè puro inverno leggere di Elena Ferrante in qualsiasi sua forma mi ricorda perché io l'adori ho letto proprio la primissima conversazione sul piacere della lettura della scrittura contenuta all'interno dei margini del dettato che si chiama La pena e la penna e parte proprio dai margini quelli che sono in copertina i margini del quaderno che utilizzano i bambini per scrivere qui l'autrice tira fuori una riflessione interessantissima su quello che è l'ispirazione cioè non parla mai concretamente di ispirazione ma il discorso alla fine verte attorno a questo nucleo tematico che è stato sviscerato più e più volte da un sacco di autori ma lei lo fa sempre con la sua peculiarità unica questa scrittura che anche nella saggistica sa di necessità che è il motivo per cui l'adoro così tanto e mi fa ricordare leggere anche un testo del genere che parla di scrittura dalla sua dalla sua penna più che dalla sua bocca mi fa ricordare perché mi piace scrivere lei parla della scrittura ordinata quella che noi mettiamo in atto tutti i giorni come se fosse una scrittura individuale ma nel senso che sei tu come individuo che scrive ma nel momento in cui parte quella scrittura vera ispirata che viene dall'interno di sé e che non parte quasi mai in maniera consapevole non sei più Giorgia in questo caso che scrive ma sei una sensibilità una sensibilità atta a mettere per iscritto quel pensiero visione che la nostra mente elabora e che si cerca di rincorrere nel mettere poi nero su bianco quello che c'è passato per la mente è complicato da spiegare poi scritto da Elena Ferrante è molto più chiaro perciò lei ha sempre rincorso questa idea di scrittura che comunque è anche abbastanza spaventosa perché è quella vera quella che più riflette se stessa e che emerge solo a sprazzi nel corso della scrittura più ordinata nitida e ligia della vita quotidiana che è il motivo per cui a mio avviso appunto è importante scrivere tutti i giorni scrivere secondo metodo perché poi gli sprazzi di diciamo d'artista emergono quando meno te l'aspetti e bisogna prenderli per quello che sono non sono controllabili non sono sì possono essere stimolati ma capitano quando meno te l'aspetti e diventi una sensibilità la scrittura si tramuta in apto convulso come scrive qui dentro e secondo me proprio rispecchia anche tanto il suo essere scrittrice cioè la sua la sua modalità di scrittura è viscerale è proprio nervosa nevrotica ed è il motivo per cui mi piace così tanto e mi chiedo se lei reputa ad esempio se reputi la saga dell'amica geniale una scrittura metodica o effettivamente il frutto di quella sua parte di moltitudine che non è Elena Ferrante ma è il suo essere una sensibilità collettiva che esula dall'essere lei come individuo che figata devo girare la flop 5 del 2022 mi è venuto proprio in mente che c'è un altro libro di edizione O nella stessa collana solo dei saggi che parla di scrittura e di creatività che però non fa per niente lo stesso lavoro cioè ho trovato connessione di Kate Ampest veramente un tentativo ma è riuscito di parlare della propria esperienza di scrittura perché si concentra su se stessa sulle sue esperienze senza essere universale come Elena Ferrante prima di cena con questo bellissimo maglione di dinosauri incazzati ho fatto la flop 5 quindi video di secondo video di questa settimana realizzato e poi devo concludere i margini del dettato perché sono neanche a metà perché sono le nove e mezza e io sto precedendo più che altro con rosso bianco e sangue blu che è troppo carino mi sta piacendo molto non so in quanto lo finirò perché sono comunque abbastanza lenta però i margini del dettato oggi vorrei concluderlo quindi considerando che devo anche editare un video editare il romanzo Ade è arrabbiatino noi siamo prontissimi ad affrontarlo vero? e io ho finito di editare il video è luna di notte e ammetto senza vergogna di aver giocato fino ad ora come la sorella a God of War 3 remastered vabbè devo ancora finire i margini del dettato quindi adesso mi ci metto perché tanto sta finendo di caricare su youtube i video allora ho finito devo dire che il primo capitolo mi aveva convinto di più perché è più universale mentre invece il secondo e il terzo sono adatti a chi ha già letto Elena Ferrante come me e chi conosce le sue opere perché si fa riferimento a quelle l'ultimo capitolo invece è dedicato a Dante e alla figura di Beatrice che non mi ha particolarmente entusiasmato ho preferito il secondo e il terzo perché conosco tutte le opere dell'autrice quasi tutte mentre invece la parte di Dante l'ho ritenuta superflua benché interessante quindi sicuramente approvato molto breve e carino buongiorno è il 27 di dicembre ieri sera ho finito appunto i margini e il dettato sono a buon punto con licantropie 101 sfregi alla luna sono a pagina 56 quindi sono circa a metà della raccolta poetica mi piacerebbe in realtà concluderla già oggi perché non volevo portarmela dietro in viaggio per non caricarmi eccessivamente di libri dato che quelli che ho scelto li ho già messi nello zaino e in valigia sto proseguendo la lettura di rosso bianco e sangue blu sono arrivata al capitolo 7 pagina 143 il che significa che stanno iniziando finalmente a capitare cose piccantine io sono molto contenta mi sta piacendo tantissimo quindi questo me lo porto dietro volentieri anche perché è molto floppy non rischia di rovinarsi sarebbe opportuno se io leggessi anche durante questa giornata Daniel Ghost e le anime erranti di Daniele Nicola Lucchi di Gribal Fantasy questa era una copia in anteprima che mi è stata data all'evento la metterà a fuoco sì eccola qua quindi niente è breve il libro il mio unico problema è oggi è una giornata abbastanza incasinata perché sto lavoricchiando e devo anche fare la valigia le ultime cose insomma pre partenza dato che domattina ho un treno alle 6 e 40 purtroppo per me quindi in realtà se riuscissi a concludere le licantropie sarebbe l'ideale perché porto a casa il libro di oggi e poi nei prossimi giorni ho quelli che mi porto a Napoli comunque come potete vedere anche dal numero di post it che sto inserendo mi piace moltissimo come viene affrontato il tema del licantropo passando da la belle e la bestia cappuccetto rosso i tre porcellini poi in generale il lupo che ulula la luna volevo farvi leggere proprio l'ultima poesia che ho segnato ad esempio dell'ultima poesia che ho letto che è la 67 mi piace moltissimo questa parte non brinda né incanta ma zanna e canta al lume salutare della luna canzoni traboccanti di dolcezza capace di trasfondere la vita poi da notare che sono tutti in decasillabi quindi c'è c'è un livello di ricerca e cura ulteriore siamo sempre qui io che elito è Aurora che mi fa dancella nel giocare a God of War che carino che sei io seriamente detesto fare la valigia sono le 4 e mezza ed è ancora vuota non la voglio fare soprattutto non so mai che cosa metterci dentro quindi dato che mia madre e mia sorella non sono a casa al momento aspetterò loro imprescindibile momento tè con lettura sono a pagina 40 circa è carino cambio di location perché sono a casa dei nonni a Milano questo perché domani mattina parto all'alba e di conseguenza avevo necessità di essere già a Milano non abito a Milano eccoci qua sono le 10 mezzanotte ancora lontana vorrei avere almeno 6 ore di sonno quindi continuo a leggere classiche cose da casa dei nonni questo è un gingillo che adoro che tipo vorrei utilizzare per le mie foto di instagram qui c'è un piatto tipo giapponese fichissimo quante cose buffe hanno i nonni nelle loro case con queste bellissime lenzuola di lupo alberto provided dai nonni vi dico che ho quasi finito le cantropie tant'è che sono a pagina 94 95 manca poco lo metto un attimo in pausa perché mi concentro un pochino su rosso bianco e sangue blu che non l'ho più ripreso oggi e vorrei andare un po' avanti perché mi ero interrotta in un punto bello clou Daniel Ghost si è rivelato una lettura molto piacevole con anche atmosfere parecchio cupe non me l'aspettavo assolutamente di dover abbrevidire l'unica nota dolente a mio avviso è che si rifà poco a quelle che sono le leggende della Valcamonica che potevano essere sfruttate meglio però un ottimo inizio buonasera allora non ho aggiornato per niente il vlog oggi perché il viaggio mi ha stremata questa notte non ho dormito praticamente nulla mi svegliavo ogni quarto d'ora 20 minuti quindi è stato devastante ho letto pochissimo di rosso bianco e sangue blu e per lo più ho lavoricchiato e editato il romanzo quindi una volta arrivata a Napoli sono crollata morta addormentata quindi scusate non riesco a dire il film al telefono quindi niente non ho fatto assolutamente nulla ho lavoricchiato ancora un po' il romanzo adesso mi faccio una doccia e poi forse leggo un pochino vorrei finire il Cantropie che alla fine mi sopporta da dietro questa scritta adesso puoi prenderlo magna magna ho iniziato questo saggio su Elena e mi ha fatto molto ridere questa frase su Teseo che è la rapì in gioventù dopo la tragedia di Fedra e di suo figlio Ippolito era dunque un uomo ferito dalla vita quello che venne a sapere che Sparta cresceva la ragazza più bella che si fosse mai vista al mondo e volle che fosse sua insomma dimmi che questo saggio è scritto da un uomo senza dirmi che questo saggio è scritto da un uomo bellissimi sono bellissimi sono oggi siamo in giro in giro a Napoli la nostra prima tappa del giro di oggi è la Feltrinelli cosa che non succede praticamente mai ma deve cambiare un regalo giusto? quindi vediamo cosa troviamo io non compro nulla in Feltrinelli allora cosa stiamo prendendo? aspetta il tuo burrito è un gioco di carte per chiama tirare burrito Extreme Outdoor dice questo non è un gioco Shire è una cosa seria la cosa bella delle bancarelle di Portalba è che hanno veramente un sacco di libri anche di case editrici importanti o addirittura candidati a premio strega quindi c'è un sacco di roba ho presi una pizza per fare pranzo merenda mi am guardate che bella salve è il 30 di dicembre io avrei dovuto terminare il vlog ieri e anche le letture ma non è stato possibile perché innanzitutto tornata a casa sono letteralmente riuscita di conseguenza ieri leggere è stato praticamente impossibile perciò mi sono data un giorno bonus per finire almeno questo saggio di Elena il problema è che sono già tipo le 4 e alle 7 devo già essere a fare di casa sì quindi vado a farmi una doccia mentre asciugo i capelli leggo inaspettatamente sono riuscita a concludere Elena di Roberto Mussapi che come saggio non è che mi abbia convinta particolarmente l'ho trovato un po' scarno non molto ricco dal punto di vista delle considerazioni dell'autore che fa delle uscite un po' discutibili come abbiamo visto quindi possiamo considerare chiusa la challenge dei 7 libri in 7 giorni che ho fatto in 8 però poteva andare peggio potevo anche scegliere dei libri più grandi assolutamente non finirli in tutto ciò sono anche arrivata alla metà di Rosso Bianco e Sangue Blu che conto di finire spero domani visto che sono a casa e chiudere l'anno con questa bellissima lettura come promesso è mattina è tempo di tirare le somme di questa di questa lettura grazie Napoli è sempre un piacere stare con te avrebbe potuto sicuramente andare meglio mi piacerebbe come dicevo ieri finire oggi Rosso Bianco e Sangue Blu così appunto 31 dicembre e si chiude anche questa avventura ma nel complesso sono contenta perché ho smaltito qualche librettino che avevo da case editrici o comunque letture lì da troppo tempo quindi questa iniziativa è sempre un'ottima modalità per togliere libri dalla TBR quindi perfetto sicuramente lo rifarò in altri periodi più sgonfi dal lavoro comunque durante le festività vacanze e cose varie quindi niente fatemi sapere se avete letto alcuni dei libri che vi ho menzionato intanto lì c'è in caricamento il video flop delle letture flop del 2022 così si parte cari nel 2023 e io spero che il video vi sia piaciuto parliamo delle ultime vostre letture come sempre sono a vostra disposizione per fare delle chiacchiere in descrizione trovate tutti i link ai miei social network ai libri che vi ho menzionato insomma tutte le varie cose e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao